La sanità pugliese non è tra le più indebitate d'Italia. Dal governo, dati errati, gli ospedali non possono essere trattati come piazze. Così l'assessore alla sanità regionale Rocco Palese risponde alle dichiarazioni rilasciate in occasione di un appuntamento elettorale di Fratelli d'Italia dal sottosegretario alla salute Marcello Gemmato che ha denunciato un eccessivo indebitamento delle finanze regionali per il comparto sanitario. Sull'indebitamento della regione hanno dati sbagliati ed è sorprendente che esponenti del governo hanno tirato fuori che la regione Puglia è la regione che ha totalizzato il maggior disavanzo. Io penso che è sufficiente, oggi costretti a rendere noto anche i conti delle altre regioni, nel nostro costume, però ci sono delle regioni che sfondano abbondantemente. Ci sono regioni a meno un miliardo, ci sono regioni a meno 500 milioni, ci sono regioni a meno 600 e quant'altro, mi sembra che la nostra, anzi, sia anche una delle più contenute. L'assessore è poi intervenuto sul tema delle liste d'attesa puntualizzando come la questione sia di portata nazionale e soprattutto collegata a un generale stato di sottofinanziamento del fondo sanitario e necessiti quindi di misure straordinarie. Per poter svolgere e poter risolvere questo problema in liste di attesa occorrono norme straordinarie, occorrono finanziamenti e norme straordinarie in maniera tale da poter consentire agli operatori sanitari che ne hanno voglia e ce n'è tanta voglia di poter operare, di poter fare la stessa cosa che si è fatta durante la campagna vaccinale del Covid, grazie alla quale oggi noi siamo fuori anche dalla pandemia, cioè bisogna far questo e queste cose non le dice Parese, non le dice la Puglia, queste cose le dice il Ministro e le ha dette al Parlamento, le ha dette alle Commissioni, andassero a vedersi gli atti parlamentari se non erano presenti quando è stato effettuato questo.